Musica Buonasera e ben trovati con la pagina sportiva. Domani in programma un vertice decisivo a San Giovanni e Valdarno. Difficilmente la partita tra San Giovanni e Arezzo si giocherà allo stadio. Fedini, il piano B, prevede lo spostamento a Figliere. Quella di domani sarà una giornata decisiva per sapere dove si giocherà la partita tra San Giovanni e Arezzo in programma domenica 18 settembre alle 15. La situazione che sta caratterizzando lo stadio Fedini non permette ancora di capire se questo incontro verrà disputato nella cittadina del Valdarno Aretino. I lavori allo stadio sono in via di ultimazione ma difficilmente potranno essere conclusi in tempo utile. Ecco che serve prendere una decisione in tempi rapidi, cioè entro 24 ore. Serve comunicare la situazione alla Lega, rendere partecipe la società ospitante, avvisare gli organi della sicurezza, in primis la Prefettura, e trovare una soluzione alternativa. Da quello che si evince, dietro le quinte a San Giovanni, il piano B sarebbe quello di spostare il match nella vicina Figliere. La squadra locale, che milita in eccellenza, quel giorno giocherà fuori casa. La struttura idonea per ospitare una partita che sicuramente ad Arezzo richiamerà un grosso numero di tifosi. Già in passato l'Arezzo ha giocato in campionato a Figliere, ma l'ultima volta non registrò la presenza del tifo organizzato, visto che viene messa in atto la protesta contro la tessera del tifoso. Sarà rimosso il pannello maranto che si trova in Maratona, allo stadio di Arezzo, e che rende ancora più antiestetico un settore dello stadio che è inagibile da 12 anni. Il vento e le intemperie hanno ridotto in pessime condizioni la struttura su cui erano stampati il simbolo del comune, il logo della società e il cavallo rampante, il nome città di Arezzo. Meglio toglierlo del tutto che lasciarlo lì. Tra pochi giorni invece è previsto il debutto casalingo contro il Follonica Gavorrano, il prato del comunale sotto l'occhio vigile della ditta Gallardini di Pistoia che ha provveduto alla sabbiatura del campo. Nel mese di settembre sono invece previste due operazioni di semina per portare l'erba al top. La ditta inoltre sta facendo un analogo lavoro di manutenzione nel campo libero, levole all'antistadio. Arriva dalla spezza il giovane Niccolò Pietra che ha fatto la sua parte nella gara di esordio di Gubbio. Malotti conta anche sulla sua vitalità. Lo abbiamo intercettato prima del match proprio contro gli Umbri. Siamo con Niccolò Pietra, centrocampista, arriva dallo spezio uno dei volti nuovi del Montevarchi. Intanto come hai appreso questo nuovo approccio? Mi trovo bene, il gruppo è un bel gruppo, siamo una bella squadra e sto cercando di apprendere i consigli che mi dà il mister. Le tue caratteristiche? Sei un incontrista? Sì, io gioco a centrocampo, mi piace lottare sotto i palloni, inserirmi e cercare di fare qualche gol. Questa prima settimana con Malotti come è andata? Il mister ci ha fatto capire le sue idee di calcio e cercheremo di adattarle in campo. Senti, fisicamente assomigli al tuo predecessore, lo scorso anno qui c'era a mercati, siete molto come stesso fisico, anche stesso taglio di capelli. Speriamo di fare la sua stagione o meglio e niente, l'importante è dare una mano alla squadra. Comunque hai capito che questo è un ambiente giusto, forse anche per poter esprimere le proprie qualità. Certo, è un ambiente tranquillo dove i giovani possono crescere e niente, speriamo di fare un buon campionato. Bocca a lupo. Crepi, grazie. Il calcio dilettantistico in eccellenza, il primo turno di Coppa Italia ha sorriso al Foiano che ha spugnato lo stadio Zanchi di Anghiari grazie ad un penalty trasformato dall'ultimo arrivato, Spada. Il Foiano passa per un a zero sulla Baldaccio Bruni di Anghiari al Saverio Zanchi nel match di andata del primo turno della Coppa Italia di eccellenza Toscana. Il rigore trasformato da Spada al 33 ha deciso le sorti del match permettendo alla squadra ospite di acquisire un risultato importante anche in vista della partita di ritorno in programma a Foiano il prossimo 21 settembre. Avvio di gara molto equilibrato e prima chance al 18 con il tiro alto di Mostacci. Il Foiano passa in vantaggio al 33 grazie al calcio di rigore assegnato per il fallo di D'Aprile su Spada. Lo stesso Spada si presenza sul dischietto e trasforma con freddezza. La Baldaccio reagisce ma si rende pericolosa in una sola circostanza al minuto 43 quando sbardella da fuori calcia costringendo Goretti alla parata in due tempi. Nella ripresa i bianco-verdi provano ad alzare il baricentro ma non riescono a costruire chance e al minuto 14 è il Foiano ad andare ad un passo dal raddoppio quando Mostacci e Verdelli fanno ripartire l'azione. Spada la rifinisce con un preciso assist per pareggi che calcia a botta sicura trovando però la miracolosa respinta di Vassallo. Un minuto più tardi ancora Vassallo attento e si ripete nel miracolo deviando in auto il calcio ravvicinato di Bruschi sugli sviluppi di un corner. Al venticinquesimo della ripresa proteste per i bianco-verdi per una trattenuta in area di Bennati su autorità ma l'arbitro Giovanni Curcio di Siena sorvola. Nei minuti finali pochi squilli e il match scivola senza troppi problemi fino al minuto 90. Il Foiano si aggiudica così il primo round di Coppa la Baldaccio proverà a ribaltare la situazione nel match di ritorno il 21 settembre allo Stadio dei Pini di Foiano della Chiana. Prima però per entrambe le formazioni atteso il match di debutto di domenica prossima. Trasmettere i valori dello sport ai giovani questo è lo scopo del primo memoria al Paolo Rossi tenutesi al Stadio Comunale di Bucine a lui intitolato. Un memoria dedicato ad una vera e propria icona del nostro calcio l'indimenticato Paolo Rossi l'iniziativa tenutasi allo Stadio di Bucine a lui intitolato è alla sua prima edizione. Siamo con Federica Cappelletti moglie dell'indimenticato e indimenticabile Paolo Rossi quest'oggi tanti ragazzi in campo per lanciare un messaggio particolare. Sì, è un messaggio di sportività di fair play, di valori sani, principi, salute ecco tutto questo vogliamo condividere con questi ragazzi tra l'altro sono quattro squadre di quattro realtà importanti per Paolo perché appunto la squadra di Bucine che ci ospita anche nello stadio intitolato a Paolo e è il posto dove Paolo aveva scelto di vivere dove ancora noi insieme alle nostre figlie viviamo e poi Prato, Vicenza e Perugia quindi quattro realtà che sono state significative per la carriera di Paolo ma anche dal punto di vista umano quindi ecco avere qui cento ragazzi che si sfidano il ricordo di Paolo ecco una cosa diciamo per noi importante perché vogliamo che proprio nel suo nome ci sia questo rapporto anche tra i giovani questo scambio, questa condivisione questo inno alla vita che è lo sport Tra l'altro Paolo credeva molto nei giovani puntava parecchio sui giovani Assolutamente, Paolo credeva molto nei giovani noi anche con l'Accademia di Paolo ci siamo insieme a lui abbiamo sempre cercato situazioni per coinvolgere i giovani per far sì che anche avessero degli obiettivi il sogno, un sogno che in questo caso è il sogno di diventare calciatori o quantomeno di giocare a pallone ecco quindi viva lo sport, viva Paolo In chiudiamo con il servizio di basket ripresa, scusate, l'attività anche della Bruschi ne ho promossa in A1, basket femminile uno dei molti nuovi è Elisabetta Tassinari È uno dei nuovi arrivi in casa Bruschi stiamo parlando di Elisabetta Tassinari bolognese della quale si dice molto bene Ho trovato sicuramente un ambiente molto accogliente una società pronta a ricevermi io sono altrettanto pronta a questa nuova sfida che per me è proprio una novità perché è la prima volta lontana da casa quindi sono contenta, sono entusiasta di essere qui mi sembrano tutte persone oneste e pulite quindi insomma questo è quello che conta e cercherò di ripagare questa accoglienza sono qua per aiutare la squadra a disputare una prima stagione nella massima categoria una buona stagione quindi insomma credo di poter dare qualcosa ad esempio un po' di esperienza a questa squadra che comunque ne ho promossa anche se comunque giocheranno giocatrici con una certa esperienza però insomma io nel mio piccolo proverò a aiutare la squadra un primo giudizio sul coach Matassini ne ho sentito parlare solo bene devo dire la verità e quindi insomma sono contenta adesso ci dobbiamo ancora conoscere bene però penso che ci sarà modo è tutto per lo sport grazie per essere stato io e noi appuntamento a domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.